Dopo diversi giorni suo padre è finalmente stato ritrovato. È una grande emozione, una grande gioia, giusto? Certamente, certamente sì. Lo hanno trovato alcuni volontari e vigili del fuoco in un fosso a circa due chilometri dalla sua abitazione, in mezzo ai boschi. Remo Pastena, l'87enne scombarso al rutino domenica pomeriggio, dopo essere uscito per una passeggiata, era caduto in un fosso, in una zona ripida, e non era più riuscito a risalire. Per due giorni è rimasto in quel posto, senza muoversi, senza mangiare né bere. Eppure le sue condizioni di salute, benché fosse disidratato, sono apparsi abbastanza buoni soccorritori, che per primi sono arrivati sul posto. Immediatamente è stata informata anche la famiglia, che per due giorni ha vissuto con l'incubo, che gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Si sono capiti i motivi del gesto dell'allontanamento di suo padre? Ma niente, lui stava sempre intorno a casa, ogni tanto si spostava così, chissà come gli è venuto. Quindi è la prima volta che fa un gesto? Sì, sì. Il figlio Pasquale, che lo sta assistendo in ospedale, rassicula sulle condizioni di salute del padre, che ha riportato solo qualche acciacco. Pasquale spiega che se il padre avesse dovuto passare un'altra notte nel fosso, probabilmente non ce l'avrebbe fatto. Noi abbiamo trovato il sera, ancora cinque minuti, faceva buio, stanotte secondo me. Non ce l'ha fatto. Subito dopo il ritrovamento, avvenuto intorno alle 19.30 di ieri, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Luca, di Vallo della Lucania, per essere sottoposto ad accertamento. Adesso in che condizioni hai il suo padre? Di salute sta bene, soltanto giustamente c'è qualche acciacche, così è normale. Poi anche perché non l'ha bevuto. Nulla di grave però. No, nulla di grave.